Una città sconvolta si prepara a dare l'ultimo saluto alle tre vittime dell'incidente di sabato notte sulla statale 115 a Rosolini domani giornata di lutto cittadino. Nascondeva nella propria abitazione a Vittoria non solo droga ma anche due pistole e munizioni vittoriese di 50 anni arrestato dalla polizia. Il comitato piccoli risparmiatori della Banca Agricola di Ragusa e parlamentari dei 5 Stelle ricevuti al Ministero dell'Economia spiragli nella vertenza. Celebrata ieri a Ispica in occasione di San Sebastiano la festa provinciale della polizia locale presenti le massime autorità civili e militari. Il fiorettista modicano Giorgio Avola in Giappone per la terza tappa di Coppa del Mondo la scherma azzurra a caccia di altre medaglie. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG 74. Rosolini attonita per una tragedia enorme che provoca rabbia ed amarezza. Il video del pauroso scontro avvenuto sabato notte sulla Ispica Rosolini è registrato dalle telecamere dei videosorveglianza della zona Lascia Senza Parole. Domani lutto cittadino e domani pomeriggio in Chiesa Madre l'ultimo saluto delle tre vittime. Si terranno domani pomeriggio alle 15 in Chiesa Madre a Rosolini i funerali di Cristian Minardo, 22 anni, la sua ragazza Aurora Pucci Serrentino, 17 anni, e la zia della giovane Rita Barone, 54 anni, vittime del pauroso incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla statale 115 Ispica Rosolini. La città è ancora attonita per quanto accaduto e le immagini impressionanti dello scontro riprese dalle telecamere di videosorveglianza di aziende della zona hanno fatto registrare migliaia e migliaia di visualizzazioni. Il ragazzo che si trovava alla guida dell'altra vettura, Angelo Runza, 22 anni, unico sopravvissuto allo scontro, si trova ancora ricoverato in rianimazione all'ospedale Cannizzaro di Catania ed è tenuto in coma farmacologico. Ieri per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale plurimo, perché le analisi hanno accertato che al momento dell'incidente aveva un tasso alcolemico nel sangue superiore a 5 volte quello consentito dalla legge. Anche la sua, come quelle delle tre vittime, è una famiglia distrutta dal dolore per quanto accaduto. Il sindaco di Rosolini, Giuseppe Incatasciato, come aveva già annunciato ieri, per domani ha proclamato il luto cittadino. L'amministrazione comunale ha disposto anche l'esposizione delle bandiere a mezzasta su tutti gli edifici pubblici. Il sindaco ha chiesto la sospensione delle attività rumorose in segno di rispetto e ai titolari di attività commerciali di abbassare le saracinesche dalle ore 15 alle 18. Le scuole osserveranno un minuto di silenzio all'ingresso e gli insegnanti sono stati invitati a fare delle riflessioni su quanto accaduto in classe. Disposta inoltre la chiusura pomeridiana degli istituti scolastici del territorio per favorire la partecipazione alle esequie. Il ministro alla salute Giulia Grillo sta valutando l'ipotesi di inviare ispettori del ministero all'ospedale Giovanni Paolo II per altri accertamenti sulla morte di Corrado Roccaro, 58 anni di avola, deceduto dopo un intervento di ablazione atriale nel reparto di cardiochirurgia. Ieri al Giovanni Paolo II c'è stata una prima ispezione effettuata da due specialisti inviati dall'assessorato regionale alla salute. Intanto i familiari di Corrado Roccaro chiedono risposte alla magistratura su eventuali responsabilità nella morte del loro congiunto deceduto dopo 11 giorni di agonia. Già subito dopo l'esito negativo dell'intervento chirurgico avevano presentato una denuncia alla Procura della Repubblica. Nascondeva nella propria abitazione a Vittoria diversi grammi di droga, due pistole e centinaia di munizioni e quanto scoperto dalla Polizia di Stato durante un controllo antidroga, l'uomo, un vittoriese incensurato di 50 anni è stato quindi arrestato. I dettagli nel servizio. Non solo cocaina e marijuana ma anche due pistole perfettamente funzionanti e centinaia di munizioni e quanto nascondeva nella propria abitazione e nella periferia di Vittoria un uomo incensurato di 50 anni chiamato adesso a spiegare agli inquirenti il perché di tutto quell'arsenale. Le indagini da parte della Polizia di Stato di Vittoria erano partite da una segnalazione di spaccio arrivata in commissariato, segnalazione confermata dal rinvenimento di diversi tipi di droga e che ha portato all'arresto di un uomo ritenuto altamente pericoloso per le armi che nascondeva. Gli agenti venerdì scorso hanno bussato alla porta del 50enne sospettato di spaccio sicuri che l'uomo nascondesse diversi grammi di droga nella propria abitazione. Così è stato dato che la perquisizione domiciliare ha dato immediatamente esito positivo, nascosti in un cassetto diversi grammi di cocaina e marijuana. Ma quello che maggiormente ha insospettito gli agenti è stato un bossolo di pistola di cui l'uomo non ha saputo dare spiegazioni. Le ricerche si sono quindi estese anche nel garage dove i poliziotti hanno trovato due pistole perfettamente funzionanti e centinaia di proiettili. Adesso gli investigatori della Polizia di Stato stanno valutando come mai un incensurato occultasse oltre alla droga anche due pistole e tutte quelle munizioni. Nei giorni a seguire l'arresto dell'uomo è stato convalidato, la Procura della Repubblica ha richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la misura cautelare in carcere, considerata la particolare gravità di quanto scoperto. Il prefetto di Spenza interviene sull'episodio di cronaca che ha avuto come protagonista un giovane romeno che nei giorni scorsi ha tentato il suicidio. A salvarlo è stata la polizia perché non ha soldi per sfamare i figli. Appresa la notizia di grado di Spenza ho immediatamente dato disposizioni alla direzione dei servizi sociali affinché il giovane che evidentemente aveva tentato l'insano gesto perché disperato venisse seguito e sostenuto. Gli uffici mi hanno assicurato che il suo nucleo familiare è conosciuto già da tempo e riceve costantemente sostegno dal comune di Vittoria. Vertice romano ieri tra una delegazione del comitato piccoli risparmiatori della banca agricola popolare di Ragusa e parlamentari del Movimento 5 Stelle con il sottosegretario alle finanze Alessio Villarosa sul tavolo la vertenza sul riacquisto delle azioni da parte della banca procedura bloccata o ritardata da norme italiane ed europee. Una delegazione di piccoli risparmiatori della banca agricola popolare di Ragusa e un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle sono stati ricevuti ieri a Roma dal sottosegretario alle finanze Alessio Villarosa. Sul tavolo la ricerca di una soluzione al problema sollevato dai piccoli risparmiatori il blocco delle operazioni di riacquisto delle azioni da parte della banca, in altre parole l'impossibilità di migliaia di clienti dell'agricola a monetizzare le azioni possedute. Il vertice romano è arrivato dopo il sit-in di martedì scorso quando davanti alla sede centrale della banca a Ragusa si sono riuniti i gilet gialli del comitato piccoli risparmiatori per una protesta pacifica che ha avuto l'effetto di portare all'attenzione dell'opinione pubblica il problema che riguarda migliaia di persone. I componenti del comitato hanno espresso al sottosegretario Villarosa le loro preoccupazioni anche in riferimento alle recenti disposizioni normative italiane ed europee che hanno mutato in questi ultimi anni la regolamentazione della compravendita di azioni delle banche popolari e il riacquisto delle stesse. Il rappresentante del governo si è impegnato a convocare un altro vertice nei prossimi giorni mentre i parlamentari hanno annunciato un confronto con il management della banca con l'obiettivo di fare incontrare le parti per tutelare sia l'istituto di credito che gli azionisti e i risparmiatori. Lo scopo è quello di non far venire meno la caratteristica principale della banca, quella cioè di costituire una risorsa per il territorio. Novità riguardanti il processo Copai che ha coinvolto l'ex provincia di Ragusa, la Corte d'Appello di Catania ha ribaltato la sentenza di primo grado dando ragione all'ente di piede del Fante di Ragusa annullata la sentenza di primo grado del Tribunale di Ragusa che aveva condannato l'ex provincia al pagamento di due fatture per un totale di oltre un milione di euro. Il Copai si era rivolto al giudice di primo grado chiedendo ed ottenendo un decreto ingiuntivo per il pagamento delle fatture nonostante l'ex provincia di Ragusa avesse chiesto la revoca del decreto per carenza di prova del credito vantato. Il Copai è stato condannato alle spese processuali sia di primo che di secondo grado per un totale di 31 mila euro oltre a quasi 3 mila euro per altre spese non imponibili. Presenti le massime autorità ieri a Ispica in occasione delle celebrazioni in onore a San Sebastiano parrono della Polizia Locale, occasione utile per sottolineare l'importanza del servizio garantito quotidianamente dai uomini delle varie polizie locali. Il servizio. Come da programma si è svolta ieri pomeriggio a Ispica nella chiesa madre di San Bartolomeo la festa provinciale della Polizia Locale in occasione del parrono San Sebastiano, chiesa aggremita con la presenza dei comandanti, dei 12 comuni blei, dei sindaci, degli assessori e dei presidenti del Consiglio Comunale. La cerimonia religiosa è stata ufficiata dal vicario generale della diocesi di noto Monsignor Angelo Giordanella ed è stato proprio lui ad esaltare il ruolo della Polizia Locale, i compiti e le responsabilità che giornalmente affronta ogni agente. Come ogni anno l'offertorio è stato caratterizzato dalla consegna di prodotti alimentari tipici dei 12 comuni, poi donati in beneficenza alla chiesa madre di Ispica e alla Caritas diocesana. In chiusura gli interventi del sindaco di Ispica Lucio Muraie, dall'assessore della Polizia Locale Giuseppe Pluchinotta e dal comandante Lucia Rocuzzo. Quest'ultima ha voluto sottolineare come il ruolo della Polizia Locale non può essere accostato a quello del dipendente comunale. Inoltre proprio la Rocuzzo ha presentato l'iniziativa fortemente voluta dal prefetto che prevede la collaborazione tra tutti i comandi blei per servizi specifici. Per noi San Sebastiano, oltre che il nostro padrono è un motivo di incontro annualmente, lo festeggiamo il 20 gennaio, quest'anno recade il 21, però è un motivo di incontro per tutta la Polizia Municipale e provinciale e anche con tutte le altre forze di Polizia. Sono momenti toccanti, momenti di aggregazione e anche momenti di socializzazione. Quest'anno è toccata Ispica ma come si sa ogni anno andiamo in comuni diversi. San Sebastiano è il nostro padrono che da qualche anno viene festeggiato comunemente da tutti i 12 comuni iblei. In precedenza ognuno festeggiava per conto proprio nella propria città. Adesso è più bello, è più aggregativo, è più sociale. Si è parlato delle carenze e dei disservizi della zona industriale di Ragusa nel corso di un vertice tenutosi ieri in prefettura. A Ragusa il prefetto ha invitato i rappresentanti degli enti presenti ad assumere precisi impegni, ma mancano però le soluzioni. C'erano il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, i rappresentanti dell'IRSAP, del Consorzio Asi Liquidazione e del Consorzio Isole Iblee, alla riunione presieduta dal prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e tenutosi ieri per affrontare il problema sicurezza che sta interessando la zona industriale di Ragusa. La recrudescenza dei furti nella zona ha fatto registrare numerose denunce e ha sollevato le lamentele di tanti operatori economici che hanno investito nella zona. Certo, se qualcuno si aspettava che dall'incontro sarebbe venuta fuori una soluzione ai problemi, è rimasto deluso. La riunione infatti è servita a discutere e ad evidenziare, per l'ennesima volta, le carenze in tema di sicurezza, a ribadire la mancanza della videosorveglianza, della illuminazione, la presenza di erbaci e rifiuti, tutti disservizi che cozzano con il ruolo di una zona che dovrebbe rappresentare il cuore pulsante dell'economia iblea. Da parte del prefetto l'invito a rifare il manto stradale, a ripristinare la videosorveglianza e l'illuminazione. Poi ancora un altro invito, quello fatto ai rappresentanti degli enti intervenuti ad assumere precisi impegni, secondo un programma di azione che serva a risolvere i problemi. Il prefetto alla fine ha dato la sua disponibilità a convocare ulteriori incontri. Certo, dagli inviti e dalle raccomandazioni alle soluzioni pratiche dei tanti problemi che riguardano la zona industriale di Ragusa, il passaggio non è così scontato e al momento nessun impegno concreto sembra essere venuto fuori dal vertice. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. La Polizia Municipale di Vittoria ha effettuato una serie di controlli al mercato ortofrutticolo, cinque le violazioni del regolamento riscontrate per le quali si è proceduto all'elevazione di altrettanti verbali di violazioni amministrative. In particolare tre verbali sono stati elevati per cessione parziale o totale del posteggio e gli altri due per inattività del posteggio non tempestivamente comunicata al direttore del mercato e per morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del corrispettivo per l'uso del posteggio. I controlli hanno riguardato anche l'ingresso del mercato e le persone presenti nella struttura 108, gli operatori identificati altrettanti veicoli sottoposti a controllo, elevati due verbali per mancata revisione del mezzo e desirata una patente di guida perché è scaduta. Il titolare di un altro esercizio pubblico è stato verbalizzato perché i controlli effettuati congiuntamente lo scorso 11 gennaio con l'ARPA hanno accertato il superamento dei decibel consentiti. Le famiglie modicane che nel proprio nucleo familiare hanno almeno un ultra settantenne vedranno elevare l'ISEE da 10.000 a 15.000 euro per ottenere la riduzione dell'Atari. Ad avanzare la richiesta è stato il presidente dei pensionati della CNA di Modica, Giorgio Di Remondo. Il sindaco Abbate ha accolto la richiesta e ha inoltre confermato la detassazione dell'Atari per tutte le aziende artigianali che smaltiscono correttamente i rifiuti considerati speciali e pericolosi. Adesso lo sport, il fiorettista modicano Giorgio Avola è partito alla volta del Giappone dove a Tokyo è in programma da venerdì la terza prova di Coppa del Mondo. Di scherma Avola numero 9 del ranking mondiale di categoria salirà in pedana sabato nel tabellone di diretta a 64. Guardate. Giorgio Avola è partito alla volta di Tokyo per la terza prova di Coppa del Mondo. Di scherma della stagione 2018-2019. Il fiorettista modicano è reduce dall'entusiasmante fine settimana di Parigi dove con una doppia grande prestazione è stato medaglia di bronzo nella prova individuale e argento in quella a squadre. Della delegazione italiana fa parte anche il maestro Eugenio Migliore. Venerdì sarà il giorno dedicato alle qualifiche, una fase preliminare che Avola, salito al numero 9 del ranking mondiale di categoria, eviterà entrando in gara direttamente sabato nel tabellone di diretta a 64. L'obiettivo del modicano sarà quello di ottenere in Giappone un altro risultato importante per consolidare la propria posizione in vista dell'inizio della qualifica olimpica che partirà dal mese di maggio. Domenica sarà poi la giornata dedicata alla gara a squadre dove Avola, assieme a Garozzo, Foconi e Cassarà, campioni del mondo in carica partiranno da numero 2 del ranking mondiale e cercheranno quella vittoria in Coppa come squadra che manca ormai da due anni. Intanto alla scherma modica fervono i preparativi per l'organizzazione del torneo internazionale non vedenti che sabato 26 e domenica 27 vedrà le delegazioni di Italia, Francia, Svezia e Spagna cimentarsi in questa nuova disciplina per la prima volta con un regolamento unico e condiviso. Il telegiornale termina qui, appuntamento alle prossime edizioni. Grazie, arrivederci.